Partecipazione, entusiasmo e tanta commozione per il ritorno del crocifisso ligno del XVII secolo completamente ristrutturato e riportato all'originaria fattura. Ad accogliere l'opera, nel giorno liturgico dell'esaltazione della Santa Croce, Don Giorgio Pascolo e numerosi fedeli nella Chiesa Maria Santissima Adolorata, che ha ospitato e custodito il Cristo di Pietrafitta per oltre 230 anni. Oltre alle altre opere presenti nella parrocchia di Soverato Superiore, come la Pietà, scultura tra le più importanti in Calabria, e il basso rilievo in marmo, le Ceomo, con i simboli della passione, entrambi di Antonello Gaggini. Il risanamento della scultura è stato reso possibile grazie al contributo della Proloco di Soverato insieme agli altri club e associazioni del territorio, i Lions, Soverato e Squillace, Sor Optimist, Rotary e Fidapa. Un lungo e certosino lavoro durato oltre un anno da parte della restauratrice Francesca Lamanna, in quanto la scultura a linea, policroma, raffigurante Cristo in croce, si presentava in pessimo stato conservativo, ci ha dichiarato, in quanto ricoperta da un notevole strato di materia di varia natura. I danni provocati dai vari rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli l'avevano danneggiata rendendola del tutto ingestibile. L'opera, realizzata dallo scultore Frangelo da Pietrafitta, dopo un'accurata indagine di laboratorio, è stata sottoposta ad un restauro conservativo ed estetico. Il lavoro, suddiviso in più fasi, è stato realizzato secondo i criteri scientifici nel rispetto dei principi e della teoria del restauro attuale al fine di restituire la corretta reggibilità dell'opera rispettandole la materia originale e il suo valore storico.